Sono 30 su un totale di 49 profughi, i minori a bordo della Geobarenz, la nave di ricerca e soccorso che arriverà domani alla Spezia intorno alle 7 del mattino dopo avere soccorso un'imbarcazione alla deriva in Acque Maltesi. È quanto si apprende da medici senza frontiere l'organizzazione non governativa che si occupa del soccorso in mare, spesso supplendo alle carenze degli stati nazionali. I 49 migranti sono stati tratti in salvo lunedì sera, due di loro sono stati recuperati in mare mentre una terza persona risulta dispersa. Per lo sbarco alla nave è stato indicato dalle autorità italiane il porto della Spezia dove Geobarenz dovrebbe attraccare nella prima mattinata di domani. I 30 minori hanno un'età compresa tra i 14 e i 17 anni, tra di loro ci sono anche due donne di cui una giovanissima. I naufraghi che erano partiti dalla Tunisia raccolte al largo di Malta dopo sei giorni di navigazione provengono prevalentemente dall'Africa sub-sahariana, in particolare da Gambia, Senegal e Guinea. E in concomitanza dell'arrivo della nave a partire dalle 6 e 30 del mattino, al faro rosso del Molo Italia si terrà il presidio di benvenuto per i migranti a bordo della Geobarenz con gli organizzatori che rimarcano per l'ennesima volta l'assurdità e l'ingiustizia di assegnare alla nave il porto della Spezia, sottoponendo i migranti ad ulteriori giorni di navigazione, con tutti i disagi e le sofferenze che ciò comporta per persone già duramente provate. L'ennesimo atto per colpire le ONG concludono e impedirgli di fatto di prestare altri soccorsi in mare, l'ennesimo atto della politica disumana su migranti di questo governo.